E alarme furti in zona Aversana. Numerosi sono i casi segnalati negli ultimi giorni dai cittadini che chiedono un intervento dell'amministrazione comunale e delle forze dell'ordine affinché provino ad arginare un fenomeno che è diventato endemico. L'ultimo furto in ordine di tempo si è verificato nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 18, quando i gnoti si sono introdotti in un'abitazione al cui interno vi erano anche i proprietari. Non siamo sicuri nemmeno a casa nostra il commento di alcuni residenti.